Siamo qui per la presentazione del settimo volume del codice del diplomatico Gaetano, scritto da Lino Riciniello, nel settimo volume. Questa era intitolata a Flavio Gioia, invece poi c'è stata la... Cambio di nome perché giustamente Giovanni Gamboto, navigatore Gaetano, scopritore del Canada. Questo istituto è stato fondato da Ferdinando IV di Borbone nel 1854. Poi fu chiuso dai Piemontesi nel 1861 e riaperto a spese del Comune nel 1878. Abbiamo il professor Luigi Carmi, il professor Cesarane, il preside... Buonasera a tutti, ci senti? Innanzitutto ringrazio tutti i presenti, ringrazio il nome personale, anche il nome del mio autore. Sarà tanto emozionato ma venga anche di più. Prima di passare alla presentazione dei relatori... Do la parola al Presidente dell'Istituto per adesso si dice di ricerca di scolastico, il professor Di Ducci per un breve saluto. Sia la manifestazione, sia per l'Istituto, sia per voi che... Grazie. Grazie. Ovviamente preferiamo tutti quanti preside, almeno così mi scusa. Io preferisco la preside e tantissimi miei colleghi, diciamo tutti, ma non preferisco ancora la vecchia edizione, piuttosto che il dirigente scolastico. Comunque, buonasera a tutti, benvenuto a tutti, un saluto cordialissimo agli intervenuti e un saluto particolare ovviamente ai relatori qua, insomma, che rappresenta un pochettino la cultura di questa città e di questo territorio. Noi siamo ovviamente a del poco felicissimi di ospitare in questa taula, questa taula da ormagna, sala da memoria, come noi la chiamiamo all'interno della scuola, questo evento, l'evento, la presentazione del 7.1 del codice di umanio Gaetano. La cultura di Gaeta, la cultura di questa scuola, ovviamente, va di pari passo. Questa scuola ha ormai 160 anni, ma hanno poi messi per il 160esimo anno ed è parte integrante di questa città e di questo territorio ed ha contribuito nel tempo e continua a contribuire a quello che è la formazione, la cultura di Gaeta, dell'interno del corso di Gaeta e tutto il corso di Gaeta. Oggi abbiamo avuto la voglia, noi della scuola, di schierare in prima fila una nostra rappresentanza, ragazzi che rappresentano questa dimostrazione come l'istituto ai quali il compatto è presente nel territorio e può essere sempre più presente nel territorio. Prima di passare la parola a chi deve assolutamente illustrare questo 7.1, che è tutto il codice che fa, ma sono qui per questo, io volevo radicarmi con il mio istituto perché sta crescendo. E' radicata e ben radicata su questo territorio. Quest'anno abbiamo avuto come istituto nazionale l'80% di iscrizioni più rispetto allo scorso anno scolastico. Ciò significa che questa scuola è una scuola che è consolidata, è sempre più consolidata in questa reta. Ed è parte integrante di Gaeta, della storia di Gaeta, della cultura di Gaeta. Noi ci sentiamo appartenenti a tutto quanto questo e siamo fieri di essere Gaetani, di essere abitanti di questo corpo meraviglioso, ovviamente cittadini di questo mondo. ma ringrazio quindi veramente di cuore chi ha potuto portare qui in questa sede la presentazione di questo titolo, di questo settimo volume. e buona sera a tutti quanti voi. Grazie.